quando lo faccio tre volte lui deve entrare in mezzo ma scusi quello ha detto che doveva buttarlo via qualche anno fa sì pensavo di non usarlo più perché pensavo più destra all'inceneritore è tornato fuori dopo questo ha 30 anni l'ho messo via e ho detto l'inceneritore lo chiudo e chiudiamo e ancora dopo 28 anni 25 anni siamo ancora fuori a fare uno due tre